Una quattordicenne sarebbe stata chiusa in un bagno della stazione violentata da due equetani e la denuncia sciocco è presentata ai carabinieri di maglie dalla mamma dell'adolescente e i due ragazzi di 14 e 15 anni residenti in un paese del capo di Leuca sono attualmente indagati dalla procura presso il tribunale per minorenni per violenza sessuale e a valio del magistrato ci sarebbe anche l'ipotesi di sequestro di persona. L'episodio sarebbe avvenuto nella stazione di maglie e i fatti risalirebbero a 28 luglio scorso. La ragazzina residente in un paese del magliese sarebbe stata accompagnata a maglie per incontrare i due amici giunti in treno e i presunti abusi sarebbero avvenuti proprio nei bagni della stazione. Dopo la violenza la ragazzina ha contattato la madre e insieme si sono regate a pronto soccorso di Scorrano dove sarebbero stati riscontrati segni compatibili con lo stupro. La denuncia ai carabinieri ha messo così in moto le indagini coordinate dal capo della procura per minorenni Simona Filoni. Per ricostruire quanto accaduto sono stati disposti due accertamenti. Il primo sui telefoni dei due ragazzi che sono stati sequestrati. Un consulente invece dovrà estrarre messaggi e immagini che sono stati scambiati fra la quattordicenne e i due amici. La procura poi ha conferito in carico la genetista Giacomo Mongeli per effettuare la comparazione dei DNA. Al momento c'è solo la denuncia presentata dalla mamma della quattordicenne e i due ragazzi difesi dall'avvocato Umberto Leo non sono stati ancora interrogati.